Da un lato il comune di Pescara con il progetto di un asilo nido per 60 bambini finanziato con i fondi del PNRR e dall'altro il comitato di cittadini che vuole che in quell'area nel parco di Via Fornace e Bizzari, alle spalle del Tribunale, non si realizzi nulla. La cherel va avanti da tempo e ora la questione nelle mani della giustizia amministrativa. La sentenza del TAR che ha dato ai cittadini ricorrenti ragione annullando la delibera dell'ente per la realizzazione della struttura avrà un seguito il ricorso al Consiglio di Stato. Pescara ha bisogno di asilo nido perché i genitori abbiano la possibilità di portare i bambini negli asilo nido di grandissima qualità. Questo è l'obiettivo che noi vogliamo cogliere e possiamo realizzare gli asilo nido in aree che sono destinate a questo servizio nel piano regolatore. Se avessimo potuto scegliere altre aree l'avremmo fatto tranquillamente. Quelle sono le aree destinate e noi dobbiamo sceglierle naturalmente. Nessuno vuole creare problemi ai cittadini ma se ci sono decisioni che comportano miglioramento della qualità dei servizi in questa città l'amministrazione deve necessariamente prenderle. Oggi ci sono risorse importanti del PNRR che noi vogliamo utilizzare, dobbiamo utilizzare e stiamo utilizzando. Il comitato Parco Fornace e Bizzarri indica tutte le alternative possibili. In cima alla lista la realizzazione della struttura nel terreno adiacente via Celestino V, ora nelle piene disponibilità del comune. Ci sono giunte notizie secondo le quali il comune intendeva, intende forse ancora adesso, non lo sappiamo, retrocedere quella sistemazione. Noi lavoreremo ufficialmente con i legali che già hanno vinto il ricorso al TAR per proporre le opportune opposizioni all'ulteriore ricorso, all'ulteriore iniziativa da parte del comune. Ovviamente, come tutti sanno, lavoriamo anche in altri ambiti avendo in mente di informare vari organismi che non sono stati toccati fin qui perché troviamo che nell'operato del comune qualche smagliatura pure esiste. I cittadini non intendono fermarsi ma saranno sempre le autorità competenti a decidere.